Più delle volte la perdita di capelli spesso ha varie cause e la combinazione di tutti questi fattori devono essere identificati per un'eventuale e sicura soluzione, particolarmente per le donne che hanno un problema di carenza di ferro, disfunzione tiroidale, disturbi endocrini, il trattamento ormonale, contraccettivi orali, trattamenti sostitutivi e tutte queste cose combinato tutte insieme hanno un impatto sul capello e anche crea la perdita di capelli.